Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel in un nuovo episodio della Nozberry Rosso E oggi apriamo l'episodio con il nostro Fetu che come vedete sta scrivendo un libro per bambini Scarpetta Blu, una storia di oggetti perduti, va benissimo Perché se vi ricordate ragazzi dall'episodio scorso Fetu fa ufficialmente parte della nostra famiglia In quanto Ruby ha accettato la sua proposta di andare a vivere insieme e lo ha fatto per Peach Perché pensa che sia la cosa migliore per lui avere il suo papà a vivere insieme a loro Per cui adesso Fetu sta lavorando perché lui è uno scrittore freelance e ha già un ingaggio Deve fare questa cosa qua, cautore di favole della buonanotte Deve chiacchierare con il cliente che l'ha già fatto Deve scrivere un libro per bambini che lo sta facendo e far approvare il libro Tutto questo entro sabato alle 9, entro domani Quindi direi di portare a termine questo incarico entro oggi Il piccolino Peach invece sta giocando un po' tranquillo per conto suo Lui è un bimbo molto curioso, gli piace imparare sempre nuove cose E quindi lo troviamo spesso che gioca e impara E invece la nostra Ruby se non sbaglio Intanto sta vestita così molto estiva ragazzi Perché fino a pochissimo tempo fa, tipo fino a un paio di ore fa In realtà faceva un caldo che si schiattava Cioè la temperatura è rovente Vedete che adesso è freddo e fa il temporale Questo perché? Perché oggi c'è un tempo misterioso Quindi praticamente cambia tempo da un momento all'altro E poi vi vorrei anche far notare che domani ragazzi C'è il giorno del raccolto Ed è diciamo quella festività che chiude l'autunno Infatti domani sarà l'ultimo giorno d'autunno E quindi Ruby ha intenzione di organizzare questa bella festa Qui in casa con alcuni suoi amici Per salutare l'autunno e dare il benvenuto all'inverno Però direi che a questo punto è meglio se ti rimetti gli abiti di prima Perché fuori, ecco là, lo vedete sullo sfondo Sta cominciando a diluviare Va bene, quindi questo tempo oggi va così E oppa, che succede? Piccina, che stai facendo qui fuori? Ma la richiamiamo in casa perché sennò poverina si sta beccando la pioggia Tra l'altro a proposito di Hope ragazzi Io ho tentato di farla accoppiare Perché se vi ricordate era entrata in calore Infatti Ruby sarà andata anche un po' in giro per Brille Tombey A conoscere qualche potenziale compagno per lei E ha incontrato questi due bei gattoni Ragminton con il cilindro e Wally E ci ha fatto amicizia Però purtroppo quando li ha portati qui in casa La nostra Hope non ha voluto accoppiarsi Diciamo che ha fatto un po' la difficile Niente, ha rifiutato i suoi pretendenti Evidentemente non erano abbastanza per lei Quindi va bene Diciamo che Ruby deve impegnarsi a trovare qualcun altro più alla sua altezza A quanto pare E va bene Tutto sommato anche le gattine hanno i loro gusti Mi sembra più che giusto ragazzi Qui sta facendo, proprio sta tuonando, trema la casa Non lo so, il diluvio universale Tu a che punto stai feto? Ok, direi che stai a buon punto Però anche la nostra Ruby oggi Vedete Hope mi sa che è un po' spaventata dal temporale Oddio sì Si è andata a rifugiare sotto al divano Piccola Dicevo che lei dovrebbe fare, Ruby Alcuni incarichi da casa Come discutere degli interassi e fare vane promesse D'accordo E allora poi lo facciamo Oppa che succede che lo vedo un pochino triste Oh piccolino anche lui è spaventato dal temporale Giustamente stanno facendo dei tuoni veramente minacciosi Quindi abbraccia affettuosamente Magari giochiamo un po' insieme Così ecco insegniamo le forme a Peach Così magari insieme si calma un pochino Povero piccolo Peach È triste, ci credo, spaventato dai temporali Tuoni, fulmini e pioggia profusione Per fortuna al chiuso non si corrono rischi Esatto, quindi noi ce ne stiamo qui tranquilli dentro casa E nessuno ci dice niente Tra l'altro quando è il compleanno di Peach? Eccolo qua ragazzi Mercoledì della prossima settimana Il nostro Peach diventerà un bambino Non vedo l'ora di scoprire come diventerà Perché lui veramente somiglia tantissimo a Ruby Chissà se crescendo magari si Quindi marcano un po' di più qualche tratto ripreso dal papà Comunque direi di continuare a far lavorare Fetu Perché assolutamente voglio portare a termine l'incarico entro oggi E poi domani sabato Sperando che sia bel tempo Ma mi sembra di aver visto Eh che piove Va bene vorrei dire che organizzeremo la festicciola qui in casa Dai senza grossi problemi Perfetto Fetu ha finito di scrivere un libro intero Che verrà aggiunto al suo inventario Per il futuro piacere di poterlo leggere Fetu può anche pubblicarlo Cliccando sulla cassetta postale Va bene Quindi ce l'abbiamo già nell'inventario Eccolo qua Il nostro libro Scarpetta Blu Una storia di oggetti perduti Ma dobbiamo fare l'ultima cosettina Ovvero far approvare il libro Vediamo un po' se al nostro cliente piace Modifica il materiale rifiutato Al momento non occorre modificare nulla Ah ok Dobbiamo penso mandarglielo direttamente Cliccando qui sull'inventario Sì Invia il cliente per l'approvazione Speriamo di sì Dai Il lavoro non soddisfa i nostri requisiti qualitativi Il materiale deve essere modificato Prima di essere sottoposto di nuovo alla nostra attenzione I libri si possono modificare con un computer Ah Eh abbiamo un cliente difficile ragazzi Cavolo Ma neanche era chissà che di difficoltà questo Questo incarico eh No ragazzi Cioè guardate che cosa mi ha scritto il cliente Fetu ho visto le modifiche su cui stavi lavorando Senti lascia perdere Non c'è modo di migliorare la situazione Inizia da zero Però stavolta crea qualcosa di valido Fido al principio D'accordo Cioè ma Maledetto cliente Maledetto Mi state dicendo che devo riscrivere di nuovo il libro? No vabbè Povero Fetu ragazzi Povero Fetu Dobbiamo ricominciare e farglielo scrivere da capo Ma Sapete che vi dico? Cliente mi sta leggermente antipatico Quindi adesso me ne vado a dormire Perché è mezzanotte passata Non riconosci i miei sforzi Quindi ciao Senti Per me questo libro va bene Me ne vado a letto indignato Ruby ha messo a letto pitch Perfetto Direi che è tempo Di dare una pulita alla lettiera E poi dormiamo anche noi Non pensiamo più a questa storia E domani organizziamo una bella festicciola del raccolto Sono arrivati Ebbene sì ragazzi Immancabili come Equitalia Gli ignomi si sono presentati nel giorno del raccolto E io ho molta paura Perché possono farci dei brutti brutti scherzi E in effetti Ero indecisa se mettere la tradizione degli ignomi in questa festività Però ho detto Ma sì dai così Diamo un pizzico di brio alla giornata Fetus Bravissimo grazie che mi stai facendo la lavatrice Però Guardate un pochino il nostro Fetu Quanto adora questa tradizione A parte gli ignomi Perché agli ignomi a quanto pare non piacciono a nessuno Adora tutte queste cose qua Decorare Partecipare al pasto grandioso Invitare gli ospiti E lo spirito grato Mentre la nostra Ruby Non adora niente in particolare Diciamo che tollera queste cose Invece ignora completamente lo spirito grato Perché lei è un po' snobbetta E quindi ragazzi ci sta Insomma Nessuno è perfetto Ok Grazie mille Fetu Per favore lavami il bucato A questo punto direi di iniziare i preparativi Magari Ruby potrebbe preparare un bel pasto grandioso Mentre Fetu da un po' Appende le decorazioni Tanto Ruby vedete Non è abbastanza neutrale Verso queste cose Ma va bene Ci può stare Cuciniamo un pasto grandioso Che cosa possiamo preparare di buono oggi? Io direi Beh Una bella cena A base di tacchino Sì mi sembra una cosa abbastanza Tradizionale Quindi Diciamo che il festival del raccolto Lo immagino Una specie di giorno di ringraziamento americano Quindi secondo me Il tacchino ci sta E intanto Ecco Il cliente ci ha dato una mazzata Perché Non abbiamo portato a termine gli incarichi E ci dice che Non è tipico degli ossacchiotti Disporre di eserciti conquistatori O vivere memorabili storie d'amore L'idea di fondo ha del potenziale Ma è un po' troppo seriosa E ardita per un pubblico infantile Fetu viene pagato un po' meno Visto che il suo lavoro non sarà utilizzato E vabbè Niente Fetu Sono purtroppo Gli inconvenienti Lavorativi Possono capitare Ma non fa niente Lui non si fa Prendere troppo dallo sconforto E andiamo ad appendere Le decorazioni Oh Vediamo un pochino Dove sono le decorazioni Eccole qua Con tutte queste lucine Oggi piove Quindi dai Queste lucine Danno un po' Almeno di Di colore A tutto Peach Direi che sta benissimo Perfetto Magari giochiamo Un pochino Conop Qui La nostra Ruby Sta preparando tutto Va bene Direi che a questo punto Possiamo anche invitare Gli ospiti Beh Aspettiamo magari Che sia pronto Qua Il pranzo E oggi pensavo Di invitare Uh Che sta succedendo Qui Ti prego Non dare fuoco A tutto Però Oddio Peach Ma Si è fatto Qualcosina Addosso Il piccolo Peach Ci cambiamo Magari Il pannolino Va Ok E pensavo Di invitare Di fare Una festicciola Un po' Riservata Ecco Senza invitare Troppe persone Però Pensavo Di chiamare I nostri Ormai Cari amici Brent E Brent E la loro Peachina Erika Che sta diventando Ecco qui L'amichetta Di Peach Così almeno Riuniamo due famiglie E facciamo giocare Insieme I bimbi Ma tu glielo vuoi Cambiare il pannolino Va bene Che puzza Effettivamente Tipo Un'arma nucleare Cambiare il pannolino Quando è In questo stato Però Non possiamo Lasciarlo qui Qui intanto Oppa Si è fatta Un giretto Sul piatto Ma Va benissimo Tutto Beh Lasciamolo qua Tanto qua Ancora Resiste Per una decina Di ore E chiamiamo I nostri Amici Brent E Brent Coraggio Così Invitiamo Tutti C'è stato Un piccolo incidente Con il pannolino Qui Mannaggia Ok Intanto Brent Sta arrivando Beh A questo punto Direi che Magari Fetu Potrebbe Anche fare Un bambietto A pitch Perché Perché è decisamente Il caso Sì Perfetto Ora Dovrebbe arrivare Anche Erika E poi Perfetto E infatti Qui alla porta Già C'è qualcuno Oh ma lei Ma ciao Sioban Non ti avevo invitato Però Ma sì Dai Invitiamola ad entrare Visto che si è presentata Lei mi dispiace Insomma Lasciarla un po' Fuori alla porta Ecco qua Il nostro Anche Brent Vieni Vieni Promoniamo Un piano folle Così Tanto Per fargli Uno scherzetto Ci creiamo Un bel gruppetto Così ci muoviamo Tutti Insieme Ok Quindi Sioban Erika E Anzi no Erika Facciamo il gruppetto Con pitch E Brent Perfetto Ragazzi Ma veniamo a sederci Dentro Perché Piava e fa freddo Quindi Non vedo il motivo Per cui Dovremmo andare A sederci fuori Ecco Guardate Quanto è carino Fetu Che sta facendo Il bagnetto a pitch Ok Formiamo quindi Un gruppetto Anche con pitch Appena finisce Così Almeno lui Erika Possono giocare Tranquillamente Coraggio ragazzi Sentiamo dentro Che qua Fa freddino E Ah ragazzi Giusto Gli ignomi però Gli ignomi Gli ignomi Dove sono finiti Che stavano qua In bagno E sono rimasti Qui in bagno Che dite Proviamo ad accontentarli Io ho un po' di paura Spero che non succeda niente Accontentiamo lo gnomo Io direi che A lui Gli vorrei dare Magari Che cosa gli do Un giocattolo A lui servirebbe un vestito Visto che è nudo Però Proviamo Signor gnomo Che ne dici Ti piace Ti piace questa cosa Vediamo la sua risposta Sì Abbiamo accontentato Uno gnomo Va bene Beh Direi che è un buon Un buon inizio Invece lui Lui lo vedo Magari un'insalata E lui La torta Proviamo Scusi signor gnomo Mi dispiace davvero tanto Io farei fuggire Peach da qui Perché Non mi sembra proprio il caso Che assista A questo scempio Ok ragazzi Qui la situazione Sta degenerando Abbiamo un gnomo Accontentato Ma due Molto molto Incavolati Dall'altro Guardate che cavolo Ci hanno buttato La spazzatura E Brent Che ci fa il bagno Dentro Oppure tu Non è che sei Tanto normale Ma va bene Allora Direi a questo punto Di Con grande nonchalance Facciamo finta di niente Ho arrivato anche Arica Ciao Peach ti stava aspettando Facciamo delle faccette buffe Mentre i grandi Magari Si prendono Questo bel Tacchino Venite tutti Coraggio Che ho preparato Questo tacchino Ok Molto bene Fai tu Vieni anche tu Al pasto Lui forse è rimasto Un po' scioccato Per gli gnomi Se ne sono andati Ok Se ne sono andati Ci hanno lasciato Questo ricordino Poco piacevole Ma va bene Giustamente Anche i bimbi Si prendono il tacchino Perché si Ormai Ci hanno tutti i denti Quindi Perché non mangiarsi Un bel tacchino Oh E si mettono Questi due di vicino A Oppo Ma che carino Vabbè Questa immagine Ragazzi Scusate Ma merita Una foto Che carini Adorabili I due bimbi Vicino Alla Gattina Ma dai Poi Io adoro Quando bene o male Si riescono Più o meno A sedere tutti insieme Sì Yoban Come stai Un pochino Che effettivamente Non teniamo un raduno Godiamoci la compagnia Perché Rubi Effettivamente Fa parte Del club Dei modelli Solo che C'è stato Veramente Un sacco Di cose nuove Sono successe Nella vita di Rubi Quindi Ci sta Alla fine Ma in tutto questo Brant non è venuto Eh no Mi sa che stava Al lavoro Ragazzi Va bene Dai cerchiamo Di chiacchierare Un pochino Con Con Brant Impariamo a conoscere E c'è La piccolina Qui Peccato che oggi Fa freddo E piove Perché Altrimenti Parliamo un po' Dei giocattoli Altrimenti Avrei Organizzato La festicciola Magari tipo Qui fuori Avrei messo Tipo il banco Per mangiare Qui fuori Avrei messo Qualche giochino Per i bambini Però oggi Il tempo Non lo permette E quindi Niente Purtroppo Mi sembra Molto realistico Però Perché anche Nella realtà Quando c'è Una qualche festa Qualcosa Ad organizzare Tipo piove Quindi Ok The Sims Direi che Rispetta abbastanza Bene la realtà Su questo punto Di vista Ragazzi Qui gli gnomi Ci stanno Combinando Un macello Cioè Guardate che hanno Fatto Semi in giro Sporcizia Veramente Vediamo se Ruby riesce Un attimino A implorare Il perdono Perché Insomma Ci stanno Mettendo la casa Su quadro Non mi sembra Il caso Per favore Ripensateci Per favore Signor Gnomo Un po' Di pietà Oh Meno male Si è fatto Intenerire Vediamo se ci riusciamo Anche con lui Imploriamo un po' Il perdono E poi c'è da rimettere Tutto a posto Questi gnomi Forse non è stata Una buona idea Lasciarla Come tradizione Basta La prossima volta Niente più gnomi Basta Ok Li abbiamo calmati Va bene Così Anche Ruby Ha portato a termine Tutte le tradizioni Che voleva E guardate qui Pro gnomo sua Da gnome crederci Agli esseri da cappelli Appunto È piaciuto davvero il regalo Ruby è molto soddisfatta Della propria scelta Ok Dai È passata Ce l'abbiamo fatta A questo punto Direi di aspettare Che vadano via Un po' tutti E poi insomma Sistemiamo Un po' Rimettiamo in ordine E finalmente È tutto tranquillo Gli ospiti sono andati È stata alla fine Una bella festa Del raccolto Ruby e Fetu Hanno rimesso In ordine Un po' tutto Gli gnomi Se ne sono andati contenti Quindi tutto è bene Quel che finisce bene Ma adesso In realtà Ragazzi Sta succedendo Una cosa Molto importante Qui in salotto Andiamo a vedere Che cos'è Guardate un po' Che cosa sta succedendo Proprio In questo momento Ebbene sì ragazzi Fetu Sta per proporre Le nozze A Ruby Perché ormai È passato un po' di tempo Da quando lui È venuto a vivere Insieme a Ruby E Peach Facciamo che è passato Qualche mese La convivenza Sta andando bene E quindi Fetu Si sente a questo punto Di compiere Il passo successivo Ed è qui A proporre Proprio in questo istante Di sposarsi Ma Come la prenderà Ruby? Accetterà Oppure no? Io direi Che questo Lo scopriremo Nel prossimo episodio Per oggi è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Se è così Mettete like Mettete like Anche alla mia pagina Facebook E Instagram Per rimanere sempre Aggiornati Fatemi sapere sotto Nei commenti Che cosa ne pensate Secondo voi Quale sarà La risposta di Ruby Noi ci vediamo presto Nei prossimi video Ciao Ciao